Due vertebre fossili appartenenti a due ittosauri rettili marini preistorici. I resti, i primi trovati in Italia Meridionale, sono stati rinvenuti presso Monte Scalpello, in provincia di Catania, dal naturalista Gatino Reitano e dal biologo Davidi Di Franco, che insieme ai paleontologi Cristiano Dalsasso, del Museo di Storia Naturale di Milano, e Gianni Insacco, del Museo Civico di Storia Naturale di Comiso, e Alfio Alessandrello Chiarenza, dell'Università di Bologna, hanno pubblicato la scoperta sulla rivista italiana di paleontologia e stratigrafia. Le due vertebre sono ora conservate al Museo Civico di Storia Naturale di Comiso. I ittosauri erano dei rettili marini, che in questo particolare caso si tratta di specie molto arcaiche, che avevano anche una lunghezza molto stimabile, anche a 5-7 metri, ed è il primo caso in Italia Meridionale, perché i ritrovamenti di ittosauri, in questo caso appartenenti agli shastasauridi, che sono appunto questi rettili arcaici del Triassico Superiore, sono stati trovati solo in America del Nord, in Europa del Nord, nel Centro Asia, ed anche nella porzione alpina dell'Arco Alpino, in particolare nel territorio di Besano. Ma questi ritrovamenti sono i primi nell'Italia Meridionale. Questo cosa vuol dire? Sono piccole porzioni ovviamente, però è da anni che ci stiamo lavorando insieme a un'equipe di altri colleghi, anche del Museo di Storia Naturale di Milano. Questo significa che bisogna cercare ancora di più nel territorio siciliano per far sì che si possano trovare anche resti di una notevole consistenza, perché il territorio siciliano è stato avaro del ritrovamento di questi fossili. Ma sicuramente dice molto perché queste specie ovviamente indicano un palioambiente particolare di 230 milioni di anni fa e mette, insomma, bisogna rivedere l'antico mare, l'antico mediterraneo. Quindi il primo ritrovamento è che bisogna attenzionare proprio i terreni del Triassico siciliano. Grazie a tutti.